Allora Fabio Balasso sconfitto in semifinale con la Francia, cosa non ha funzionato oggi? Sapevamo che era dura contro questa Francia, ci hanno giocatori molto tecnici che sanno variare molto ci hanno messo in difficoltà soprattutto in questo, hanno variato molto i loro colpi d'attacco noi non siamo riusciti magari a toccarli a muro e a rigiocare però adesso ormai è passata, quindi adesso ci sta sicuramente la delusione, è grande però dobbiamo pensare subito alla partita domani che è un'altra finale, un'altra medaglia importantissima da portarci a casa Nel pregara si era detto che non si poteva lasciare un centimetro a questi francesi e così è stato? Sì, siamo partiti subito forti, dovevamo farlo, siamo stati sempre lì punto a punto fino a 20-22 pari poi alla fine alcuni turni di battuta loro ci hanno messo in difficoltà e niente quindi lì ha fatto la differenza soprattutto in quei momenti lì poi nel terzo set abbiamo un po' staccato la testa e siamo guardati male fino all'inizio del terzo e loro sono andati via C'è una notte di mezzo, poi la Polonia per il terzo posto? Sì, adesso un altro bel test domani, sappiamo che è un'altra grande squadra con tante altre individualità molto importanti però è un'altra finale come ho detto prima quindi le finali alla fine si giocano con le squadre forti come lo siamo noi e adesso testa per domani e portiamoci a casa questa medaglia Abbiamo un'altra persona in un'altra cosa